Musica Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Tg Mattina di TRG, la rassegna stampa nel corso della quale leggeremo le notizie più importanti sulle pagine regionali e territoriali dei quotidiani e ne dicono oggi nella nostra regione. Dunque oggi mercoledì 21 gennaio il giornale dell'Umbria apre con la novità giunta nella giornata di ieri sulle visite in Tramania, la regione sospende il ticket dopo la sentenza del Tare. Poi l'ospedale di Terni è un chirurgo condannati a pagare 820.000 euro operato al menisco, muore a 28 anni, maxi risarcimento. E ancora donna uccisa si stringe il cerchio, Terni piste concrete per gli inquirenti dal RIS, le risposte decisive. Avvocati e derby elettorale si fronteggiano le liste che fanno riferimento a Spoleto e Foligno e proprio a Foligno i commercianti vogliono le auto fuori dal centro anche l'inverno. Terni, l'ASM dice addio alla quotazione in borsa, pensiamo ai mini bond. C'è poi il consuntivo della forestale, rifiuti ambiente e depuratori, accertati tre reati al giorno in Umbria in un anno sanzioni per 2 milioni e mezzo di euro. Un anno nero, dossier agricoltura, vino, frutta e verdura, produzione a picco e ancora scuola di salute, troppi bimbi obesi, l'Umbria si affida al progetto Eurobis. Chiudiamo con le statistiche, gli Umbri amano la compagnia del caminetto più di ogni altro italiano. Siamo alla prima del Corriere dell'Umbria, droga killer, muore a 28 anni, un uomo è stato trovato senza vita in una casa vacanze di Arrone, autopsia per confermare l'ipotesi overdose. Abusi edilizia, una pioggia di sanzione, ancora il bilancio della forestale per la cronaca giudiziaria violenta, la giovane sorella dell'amico condannato a tre anni e sei mesi, tutto si è svolto al termine di una serata trascorsa insieme. Da Foligno Vertice sulla nuova viabilità in centro, da Spoleto Mente per salvare la patente denunciato ad Assisi, sorpreso a rubare mentre prega. La bella notizia riguarda Foligno, aiuti in Africa e in Grecia, il premio Bontà si fa in due, poi dati della municipale Perugina per San Sebastiano, più multe, meno incidenti. Siamo alla prima pagina regionale della Nazione Umbria, non si passa, nella fotonotizia centrale si parla di Perugia e tornano ad aumentare le multe ben 175 verbali al giorno, ma c'è chi continua ad ignorare i semafori rossi. Poi si parla dei tre Umbri che eleggono il Presidente, i tre grandi elettori espressi della nostra regione che sceglie Catiuscia Marini, Eros Brega e Andrea Lignani Marchesani. Denunciato un perugino finge di pregare ma poi ruba le offerte a San Francesco, è accaduta l'assisi, conti pubblici in tasca, quali sprechi così la regione risparmia, la decisione del Taro, Orvieto diventa maxi di scarica con tre calanchi. C'è uno sviluppo sul delitto provenzano, la Cassazione salva Gregorio Procopio, ricorso inammissibile, resta l'inchiesta sui complici e sul caso Cartasegna da Perugia, tutti contro la pensione d'oro del legale. Questa è la prima della nazione, chiudiamo con la prima pagina del messaggero Umbria, bollo auto stangata da 85 milioni, pagano anche le auto storiche con la crisi macchine più piccole per risparmiare, caccia agli evasori, spediti 100 mila avvisi per chi non ha pagato la tassa del 2013. Pressioni per l'appalto, 4 a processo, siamo a Foligno, il caso dell'auditorium finisce davanti al giudice, poi la cronaca muore per overdosa, allarme droga killer, da terni incubo furti, due ladri inseguiti e arrestati da un intero quartiere, sempre a terni caos letti in corsia, l'ospedale corre a ripari, infine da Perugia multe in aumento e il comune incassa 6 milioni. Intanto per l'influenza 3 mila casi al giorno, giorno, vaccino, flop, è accaduto per la nostra regione dove si è difesa soltanto la metà degli over 65 e il picco deve ancora arrivare. Chiudiamo con l'angolo del meteo, da oggi meno freddo ma poi si ricomincia e come sempre l'approfondimento dalle pagine regionali, siamo al giornale, congelato il ticket sull'intramenia dopo la sentenza del Tar, la regione sospende il balzello del 20% sulle visite, sul corpo forestale dello Stato, sul bilancio tracciato ieri, rifiuti, ambiente e depuratori, accertati 3 reati al giorno e non hanno 2 milioni e mezzo di euro di sanzioni. Siamo all'agricoltura, vino, frutto e verdure impicchiate, epidemie maltempo, l'anno nero contagio, anche i prezzi, meno 5,5%. Si parla anche della questione obesità in Umbria, un bimbo su tre lo è, è obeso, dunque più moto e civisani, la nostra regione si affida al progetto Eurobis, già coinvolti 5 mila ragazzini. E questo per quanto riguarda le cronache Umbre ed ora andiamo alle pagine del Corriere dell'Umbria, lotta senza quartiere a chi taglie boschi, raffica di abusi edilizi, sanzioni per 2 milioni e mezzo di euro, 800 infrazioni, il bilancio della guardia forestale dello Stato e si parla anche qui di allarme, obesità infantile, il progetto di Grifolatte e Curiamo per porre rimedio a questa vera e propria epidemia. Quirinale scelti i tre grandi elettori, abbiamo visto Andrea Lignani-Marchesani, Eros Brega e Catiuscia Marini che voteranno il presidente della Repubblica. Al quotidiano La Nazione, anche qui cronache che riguardano la nostra Umbria, carta segna, ispettori IMS da Roma, Eromizi sollecita la Commissione, un doppio binario sul maxi vitalizio dell'ex legale del Comune. Ancora per le cronache regionali, ma quali sprechi così noi risparmiamo? Palazzo Donini replica il consigliere Cirignoni difendendo le recenti delibere, nel mirino le divise per il personale e la videoconferenza da 200 mila euro. Ecco come vorrebbero il presidente, ecco i grandi elettori, tre delegati sono pronti a partire per Roma, Marini e Brega, un altro profilo istituzionale, mentre Lignani lancia Mignini. E ancora per le cronache regionali, siamo al messaggero, abusi edilizi e abumo, ogni mese 12 denunce, la forestale dice che nel 2014 ci sono stati 38 mila controlli, 800 reati accertati, l'influenza di 3 mila casi al giorno ed è flop vaccino e sul bollo auto il salasso da 85 milioni di euro. E come sempre dopo aver letto le notizie di cronache regionali, siamo agli approfondimenti di carattere economico, dalle pagine dell'inserto economia del giornale dell'Umbria, gli Umbri corrono in banca e in posta. Dal 2009 al 2014 i depositi bancari e il risparmio postale sono cresciuti di ben 2.286 miliardi e l'analisi sul perché è avvenuto. Ires CGL, l'illusione della ripresa, l'appello subito un piano per il lavoro, aumenta secondo questo studio la disoccupazione fra i dipendenti, crescono gli autonomi, il crollo dei consumi, investe anche la grande distribuzione, questa l'economia del giornale, ora siamo alle pagine economiche del Corriere dell'Umbria sulla chimica, dunque siamo a Terni, si aspetta l'aumento in busta paga con il rischio di dover restituire di più. E ancora per l'economia dal Corriere, altro che venti di ripresa, nel cuore verde soffia forte la recessione, ultimo rapporto di Ires e CGL, continua ad andare male l'occupazione e anche le esportazioni, fanno segnare una battuta di arresto. Siamo dunque all'economia della nazione, ora anche l'export è in frenata, economia locale in ginocchio, questo report vediamo che tiene banco sulle pagine economiche Umbre, segnando dei toni un po' diversi da quelli che erano arrivati da ConfCommercio nei giorni scorsi, dunque Mario Bravi della CGL lancia l'allarme, prioritario un piano del lavoro. Ed ora come sempre chiudiamo la rassegna delle notizie regionali con le pagine della cultura dal giornale dell'Umbria, dell'inserto extra si parla di teatro con Lillo e Greg, viaggio surreale stasera al Mancinelli di Orvieto e domani e venerdì al Lyric di Assisi in scena la fantastica avventura di Mr. Star. Intanto a Città di Castello c'è l'opera poetica di Gregorio Tifernate, l'inglese John Bacher ha dedicato uno studio ad un letterato misconosciuto del Rinascimento. C'è poi il gemellaggio musicale fra Marciano e Gubbio, il concerto della filarmonica Francesco Maria Ferri sarà eseguito nella chiesa Eugubina di San Pietro in onore del Vescovo Cecco Belli e il concerto ci sarà sabato alle 17. Intanto Palazzo Cesaretti di Assisi ospita la Salomè di Padre Magrino, Padre Magrino è direttore della Cappella musicale della Basilica di San Francesco di Assisi, il musicista francescano ha deciso di misurarsi col testo di Oscar Wilde e ne ha scatturito una serata, scrive Stefano Ragni dal giornale, dai contorni eccezionali. Siamo ora alla cronaca della cultura del Corriere dell'Umbria, canzoni per restituire la grande guerra in dimensione umana sul palco del Teatro Cucinelli di Corciano, Monio Vadia e Lucilla Galeazzi, musica e parole per togliere ossigeno ai conflitti del mondo. E chiudiamo con la cultura dalle pagine della Nazione, last time omaggio a Juman, capolavori in tre luoghi simbolo Perugia celebre, 50 anni di attività dell'artista. Come sempre dopo la carrellata dalle pagine regionali siamo all'approfondimento dai territori, cominciamo da quello perugino, si parla di vigili urbani, non solo multe alle auto, sempre più compiti e carenze croniche ed è il quadro per quanto riguarda la municipale perugina. Umbri intorno al focolare, primi in Italia nella spesa di legna per riscaldarsi e per risparmiare si torna nei boschi a fare fascine. Si parla anche del delitto provenzano nelle pagine di Perugia del giornale, la Cassazione dice non è stato Procopio confermata la sentenza di assoluzione per il presunto killer di Ponte Felcino. Siamo a Città di Castello, l'Alta Umbria si promuove sui social, progetto della Regione per rilanciare l'immagine in Italia e all'estero, è sempre a Città di Castello, da Piazza Garibaldi a Piazza Burri, Sì del Consiglio, approvata la mozione presentata da Zucchini, PD all'eroe risorgimentale, l'area prospicente, il monumento. Gubbio, viabilità, il piano degli interventi, lavori in arrivo in varie arterie del territorio comunale, le priorità individuate dalla giunta. E sempre a Gubbio, Balestrieri torna allo storico Veione, dopo 34 anni riprende la tradizione. Siamo ad Assisi, terra e semi per imparare il mondo, un orto didattico per trasmettere ai più piccoli il valore di ciò che arriva nei piatti e questo progetto riguarda il convito nazionale di Assisi. Sempre ad Assisi, un ladro ingegnoso ha rubato le offerte in chiesa, è stato fermato all'interno della Basilica Inferiore e per lui è arrivato il foglio di via dal comune di Assisi. Siamo a Foligno, rifiuti via i cassonetti dal centro, il porta a porta arriva nell'ultima zona da coprire, da venerdì saranno rimossi i contenitori e si parla anche della movida in centro a Foligno, la proposta auto fuori anche durante l'inverno, lo chiedono i commercianti che hanno attività nell'area Piazza del Grano via Gramsci. Siamo a Gualdo Tadino, gli sbandieratori in trasferta a Via Reggio, una delegazione nella città toscana per aprire con le sue coreografie la Coppa Carnevale. Siamo ora alle pagine territoriali del Corriere dell'Umbria e parliamo come sempre in apertura di Perugia, violenta la sorella dell'amico condannato, tre anni e sei mesi per il 28enne che si era invaguito della giovane durante una cena, ieri è arrivato il verdetto. Nuovo anno giudiziario, vecchi problemi, i numeri che fotografano l'attività del sistema Umbra arriveranno in una conferenza sabato e di certo si parlerà della carenza di amministrativi come ci spiega Elio Clero Bertoldi. Calano gli incidenti, crescono le multe in aumento le violazioni al codice della strada, frutto anche dei maggiori controlli i dati della municipale perugina per San Sebastiano. Intanto si avvicina la festa del patrono San Costanzo e Perugia si prepara alle cerimonie, alla luminaria e con l'immancabile Torcolo. Tutto il programma sulle pagine del Corriere. Ad Assisi torna la notizia dell'uomo che ha fatto finta di pregare e intanto rubava le offerte nella Basilica Inferiore di San Francesco mentre da Città di Castello giunge la notizia che Piazza Garibaldi sarà intitolata ad Alberto Burri. E ancora l'Alta Umbria sceglie i social network per aprirsi al turismo di tutta Europa e a Gubbio i medici, guarigione inspiegabile. Torna la questione sulla tomba della piccola Sara, sulle apparizioni della Madonna, lettera dell'equip che ha in cura la donna che sostiene di non avere più il cancro dopo aver pregato sulla tomba di Sara. E ancora a Gubbio anche la città gemellata di Gesapa ha eletto i suoi tre capodieci, Matt Evans, Michael Arnoni e John Hadley a capo dei ceri. Siamo a Gualdotadino, iniziata per il medico Sergio Sepioni, un'altra avventura di solidarietà, il chirurgo volontario della Croce Rossa si trova in Africa per interventi di oculistica. Foligno, video e varchi elettronici per la ZTL, riunione operativa in municipio per la rivoluzione viabilità nel cuore cittadino, pronti al confronto sulle fasce orarie. Ancora da Foligno la cultura d'impresa diventa sfida e si impara tra i banchi di scuola. Presentato al San Domenico il progetto promosso dall'Agenzia Umbria Ricerche a scuola d'impresa. Ancora Foligno, dall'Africa alla Grecia, una vita al servizio delle popolazioni che si trovano in difficoltà. La diocesi, come sempre in corrispondenza della festa del santo patrono San Feliciano, ha assegnato il premio della bontà a una ragazza, a Folignate e a una coppia di coniugi. Intanto si avvicina la data della fiera di San Feliciano in arrivo 200 ambulanti. Siamo ai territori della nazione, Provenzano ucciso per uno sgarro, la Cassazione salva per sempre Procopio e ancora da Sisi finge di pregare e ruba le offerte al poverello. Si parla del bilancio della Municipale a Perugia con 175 multe al giorno e del problema dell'obesità infantile in Umbria o 1 su 3 a sovrappeso. Ancora il governo stop alla caccia, si ribella alla Regione, la stagione chiude il 31, no al diktat del Ministro. Il bilancio ancora della forestale che scova 800 reati e poi ad Assisi vengono svelati i luoghi della salvezza degli ebrei, l'evento previsto per sabato in occasione della giornata della memoria. Siamo a Gubbio, intitolare a Paruccini la caserma dei Vigili del Fuoco, la proposta sul pompiere eroe alla vigilia del trasferimento nella nuova sede. E da Gualdo Tadino il film di Ivano Parlanti, c'era una volta il presente, sarà proiettato a breve al Don Bosco. Marketing turistico, progetto del GAL sull'Alta Umbria, trasmessa attraverso le nuove tecnologie a San Giustino, aiuti alle imprese faccia a faccia tra amministrazione e sindacati. Da città di Castello il project financing per realizzare piazza Burri, obiettivo realizzare l'area proprio come il maestro l'aveva pensata. E da Foligno la nazione torna a parlare di Quintana, ipotesi Bartoli sotto esame, il verdetto è nelle mani dei priori, l'incontro chiesto dal candidato alla presidenza sarà fissato a breve. Foligno, presunte turbative alla gara sul caso Auditorium 4, rinvia a giudizio Doni, Lai, Moretti e Santificetto saranno processati. E come sempre in chiusura siamo ai territori del messaggero, partiamo da Perugia, 3 mila multe in più, il incassa 6 milioni e Palazzo dei Priori esposto all'assessore per il concorso Beffa. E anche allarme ai semafori a Perugia, rubano le borse nelle auto ferme. Ancora per le cronache locali, parliamo di città di Castello, con l'omaggio al maestro a Copiazza Burri, ad Assisi mentre finge di pregare, assalta le offerte, viene preso a Gubbio via Perugina, sembra una gincana, ogni giorno le auto costrette allo slalom tra buche e cantiere. E ancora per i territori siamo a quello Folignate, arrivano i varchi elettronici contro i furbetti del centro, prima riunione tra tecnici e amministratori e si lavora ad una bozza. Inchiesta Auditorium, 4 sotto processo e ancora Quintana, botta e risposta tra Mismetti e Filipponi. Queste erano le notizie dai territori, ora una brevissima pausa ma torneremo fra poco per parlarvi di sport.